Certamente il tipo di assemblea è stata un'assemblea di altissimo valore, di grande senso di responsabilità che ha mantenuto la capacità di coesione anche quando in corso di assemblea costituente si ruppe l'unità dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale e si fece un governo con comunisti e socialisti all'opposizione, questo non influì nel proseguimento della redazione della Carta Costituzionale. A me pare importante ricordarlo perché ogni tanto si dice che bisogna rivedere, ed è giusto, alcune cose della Costituzione devono essere rivedute, basti pensare che è sopravvenuta la comunità europea con tutti i poteri che anche direttamente gestisce, con i condizionamenti che comporta, ma non è solo questo il motivo di novità. Però per poter mettere mano ad una riforma costituzionale credo che bisogna avere le idee molto chiare e specialmente creare un clima che sia un clima diverso dalla lotta quotidiana, dall'abitudine di guardare le cose con una certa faziosità e con una certa unilateralità.